Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video, io sono Maullo941 e oggi siamo tornati su Eurotrack Simulator 2 ragazzoli per continuare il nostro viaggio verso il nord Europa Noi se non ricordo male siamo arrivati a Bologna, però prima di partire con questo video ragazzoli vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti, per i consigli e per il supporto che state dando a questa serie Vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come Maullo941 sia su Facebook che su Instagram, i link sono in descrizione Se volete sostenere il canale con delle piccole donazioni trovate anche lì in descrizione il link per poterle fare tramite Tepol Detto questo, signori miei, partiamo con il video Ok raga, allora noi l'ultima volta ci siamo arrivati a Bologna, la regione dei tortellini Bologna, noi dobbiamo continuare a salire, ovviamente non ci compriamo un camion Ma facciamo semplicemente lavori per altre aziende in cui oltre a portare il materiale distruggiamo i camion Come se non si fosse un domani Allora noi abbiamo un Bologna di Borno che, e torniamo indietro non va bene Bologna Milano, Bologna Milano è carino Bologna Milano è carino, Bologna Verona Bologna Verona è più vicino, potremmo fare Bologna Verona raga Andiamo a Verona, mi ispira di più Verona rispetto a Milano Milano è troppo lontano Potremmo andare a Verona E poi da Verona avvicinarci a Milano Secondo me si potrebbe fare Dai andiamo a Verona, andiamo a Verona raga Che dobbiamo portare? Eh, pacchetti postali Ah dai dai, questa volta non distruggiamo niente raga Questa volta non distruggiamo niente Andiamo, andiamo Ok ci siamo ragazzi Siamo su un Volvo Per puro miracolo e giorno signori miei Noi stiamo partendo di notte Non piove, dico, non so che miracolo sia successo Allora detto questo accendiamo il camion Che io non so se voi sentite Io posso alzare il volume al massimo Così da sentirlo Sentiamo se il clacson è carino Il clacson quantomeno sa di camion Ok, partiamo Dobbiamo andare a destra Evitiamo di far danni Vorrei portare cortesemente questo carico Sano a destinazione signori miei Da dove si esce? Di là Ok, dai, dai Usciamo Dobbiamo andare a Verona Occhio qui al saltello Va bene È andata bene Giriamo Non guardo da quel lato Tanto non me ne frega nessuno Non me ne frega niente Noi siamo grossi E abbiamo precedenza Su qualsiasi cosa Ok Stiamo uscendo dal magazzino E stiamo uscendo anche da Bologna In teoria dovremmo riuscire a recuperare L'autostrada Da qualche parte Frena leggermente Passaggio Frena che là c'è un camion L'ultima volta Me lo so presa precisa In una rotonda Eh, visto? Eh, non si è fermato Eh no, si sta fermando Che carino Che carino Grazie zio L'ultima volta Ho rivisto il video Quando l'ho montato Quello l'altra volta E alla rotonda Il camion non si è fermato Raga, non è stata colpa mia Io già avevo Avevo precedenza Avevo Preso la rotonda Passaggio livello Aperto Qui c'è un po' di cacciara Se non sbaglio Troppo assemblamenti Eh, allora sì Però qua stanno a passare tutti Io devo passare Non è che posso stare qui a svecchiare Ok Il tizio adesso è fermato Quindi io penso che posso prendere la rotonda Mettiamo una bellissima freccia Oh, qua sono tutti fermi Che è successo? Ehi, macchinetta gialla Cammina Ok Prendiamo la freccia Che dobbiamo uscire qui Raga, ma troppo bravi siamo Neanche un danno stiamo facendo Bella così Sto perfettamente che me la sono chiamata Dicendo questa cosa Però va bene Stiamo uscendo da Bologna raga Siamo fuori Bologna Mettiamo la freccia Rallentiamo Che se questo Di colpiamo l'alfa Romeo Sono cavoli amari Allora, qui non viene In su Fermi tutti Che là c'è una macchina No Ok, si è fermata Va bene Andiamo Partiamo noi Prendiamo l'uscita Di questa A destra E andiamo verso Verona In autostrada Signori miei Ok Le diamo la freccia Cortesemente Grazie Io riuscissi a non fare danni In questo viaggio E prendermi Tutti i bei soldoni Sarebbe tanta roba Allora Corsia di accelerazione Entriamo in autostrada Freccia messa Ah, già ci sta il pedaggio Mamma mia Frenda, frena, frena Andiamo di qua Andiamo di qua Andiamo di qua Perché so che stiamo per sbattere Sento che stiamo per sbattere Raga, sento che stiamo per sbattere Frena, zio Ok Paghiamo Alza il casello E andiamo Siamo dentro l'autostrada Si va, si va Per Monti e per città Allora Direzione Milano-Verona Quindi dobbiamo girare di qua Giriamo di qua Ok Noi stiamo seguendo Quella macchinetta gialla Sembra Pac-Man Raga Stiamo seguendo Mamma mia Che fila che ci sta In questa autostrada Impressionante Frena, frena, frena Dai zio Dai zio Eh bravo, bravo Bravo zio Mamma mia Che cacciara Aiuto Confusione Ok Siamo sani e salvi A meno che il camion Non parte Ci investe subito No, ok Siamo in direzione giusta Signori miei Direzione corretta Siamo in autostrada C'è una cacciara Impressionante di macchine Però va bene Eh Ok Direzione Verona Raga Direzione Verona Mancano 132 km Noi stiamo normalmente uscendo Quante diramazioni Stiamo a prendere Raga Impressionante Mettiamo la freccetta Intanto il limite di velocità È 80 Noi stiamo andando a 90 Va bene Su Zarra Su Zarra Non conosco minimamente Questa città Su Zarra Però va bene Siamo in direzione Verona Su Zarra Immettiamoci Senza creare problemi Perfetto Vediamo se Questa volta siamo in direzione giusta Dobbiamo continuare A prendere uscite varie Comunque è carino questo camion Bianco Mi piace Questo color bianco Non è brutto Un Volvo Mi piace È fatto bene È fatto bene C'è nessuno dietro di noi? No Perfetto Possiamo continuare ad andare dritto Dai Dai Hakuna matata Un turotto Senza malinconi Un turotto Hakuna matata Tutta frenesia Oltre al guardrail Mustafa Davanti Allora noi siamo usciti dall'Emilia Romagna Signori Qui c'è l'uscita per Su Zarra Se non sbaglio Su Zarra Sì Noi invece continuiamo dritto In direzione Veneto E direzione Verona Dai così Siamo 87 km Dalla nostra meta Dai così Dai così Hakuna matata Senza frenesia Senza frenesia Sto lezionemente sbandando un attivino Però va bene Siamo entrati in Veneto Raga Siamo entrati ufficialmente in Veneto Siamo usciti dalle Emilia Romagna E siamo entrati ufficialmente in Veneto A 73 km dall'arrivo Dai così Comunque è lento forte sto camelo Raga Mamma mia Ci stanno a superare tutti Cioè il massimo che riesci a fare è 89 km rari Dai Con gli altri magari A 90 e qualcos'altro ci arrivavo Aspetta aspetta Forse riusciamo a fare un sorpasso Forse un sorpasso riusciamo a farlo Aspetta che prendo la scia Metto la freccia Supera tu con la giuletta gialla Freccia messa Dai che prendo la scia Dai che prendo la scia Dai 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 Aspetta che mi allargo subito Prima che quello mi sorpassa Dai 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 No ma io devo uscire Fermi tutti raga Devo prendersi uscita io Vedi Annaggia Sorpasso abortito Sorpasso abortito Questo sta girando pure Verona Verona sud Frena Frena zio Ok Frena Frena zio Ok Dove devo andare Ancora a destra Dritto andiamo a Milano Dai prossima metà Mi sa che sarà a Milano raga Io continuo a avere la freccia messa Però va bene Stiamo prendendo la scia raga Stiamo prendendo la scia Di questo camion Stiamo a prendere la scia Ora lo frega in accelerazione raga Lo frega in accelerazione Lo frega in accelerazione Freccia opposta Accelerazione pesante Dai 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 Tutti in carena Tutti in carena raga Dai 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 che lo supero Dai dai Spremiti camioncino Spremiti Ciao zio Oh lo sto salutando col clacson Ma non si sente manca il clacson In questa camion Cioè è fracco in qualsiasi cosa Fracco vuol dire È fracco È Boh come si traduce fracco Non lo so Comunque È poca roba Ecco diciamo che è poca roba In qualsiasi cosa Sia nelle accelerazioni Che nel clacson Altra uscita Mamma mia Mi stanno facendo entrare E uscire 8000 volte In autostrada Verso Verona sud Devo frenare Devo frenare Troppo accelerazione Ok Occhio che questa curva è brutta Occhio che questa curva è brutta E siamo troppo veloci Ok Raga Ora mai siamo diventati dei pro Ora mai siamo troppo bravi In questo gioco Troppo bravi Siamo troppo bravi Devo a sta freccia però Che è successo? No Ho spento il camion Ma porca Mi sarei dovuto fermare qui A controllare se c'è qualcuno Alla mia destra Che mi deve dare precedenza Quindi andiamo avanti noi Ciao zio Siamo usciti dall'autostrada Signori miei E ancora non abbiamo fatto Nemmeno un danno E nemmeno un autovelox Porca miseria Stiamo migliorando Veramente tanto Fermati qui zio Paghiamo 33 euro Porca miseria Ok Dovremmo essere a Verona Signori miei Confermo signori miei Siamo a Verona Siamo entrati adesso a Verona Ancora non mi dà il segnalino Di Verona esplorata Cioè già siamo dentro Di 10 metri E già non Ecco Mi sembrava strano Infatti Verona esplorata Signori miei Abbiamo visto solamente un semaforo E già abbiamo visitato Verona Fermo 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 Non mi colpire la Citro Ok Nell'errore abbiamo fatto bene Raga Perché ho preso la curva larga Ora sto sbagliando un poco Abbiamo preso anche un marciapiede Però va bene Abbiamo evitato la macchinetta Sì Ok E' andata bene E' andata bene raga Ho avuto un attimo di panico al semaforo Però è andata bene Dove dobbiamo andare? Dritta Abbiamo precedenza Oh Là c'è la centrale di Springfield Ci sarà Mr. Barnes Che sta lavorando E Homer Simpson Ok Qui non abbiamo più precedenza Quindi dobbiamo un attimino fermarci Controllare che non ci sia Nessuno Nessuno C'era un tizio qui Che è passato avanti Ok Andiamo Fermi Perché io dovevo girare di qua Ma porca di una paletta ambriaca Ce la faccio a girare così Bello Ok Ce l'abbiamo fatta Non so come Ma siamo riusciti a girare Ok Dove Il punto di consegna Davanti a noi c'è un altro semaforo Forse è qui Forse Ai 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 Leggermente indietro Non fare danno Ora che siamo arrivati Fermati così Ok Riportalo dentro Portalo dentro Ok signori miei Punto di consegna raggiunto Ok Invio signori Questo viaggio è stato bellissimo Dobbiamo venirci più spesso a Verona Sì Conferma Lo voglio parcheggiare io Lo dobbiamo parcheggiare lì Ok Non sembra difficile raga Possiamo riuscirci Possiamo riuscirci Abbiamo parcheggiato di peggio No 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 Ci riusciamo Ci riusciamo a parcheggiarlo Occhio lì al bordo Dai è così Dai è così Piano Piano Occhio lì al bordo Siamo passati a pelo Va bene Abbiamo preso un attimino il cordolo Ma va bene Va bene Non vi preoccupate Abbiamo preso leggermente il cordolo Ce la stiamo facendo un attimo Pietre pietre Magno di Dannaggia Mi aveva dato la T Fermati Fermati così T Raga Che viaggio spettacolare Mi devono pagare tutto Voglio pagare tutto Pure l'albergo Voglio pagare Eccellente Signori miei 3000 euro Tutti per noi Dai che saliamo di livello Dai che saliamo di livello No Siamo sempre a livello 2 Ma che tristezza Va bene Ragazzoli È andata bene È andata bene Detto questo ragazzi Vi ringrazio Vi ringrazio per guardare questo video Vi ringrazio per i like Per i commenti Per i suggerimenti Noi ci vediamo sempre qui Sul canale Per un prossimo contenuto Bella raga Ciao Ciao